Il tema delle competenze per noi parte dalla base, quindi dal nostro sistema duale di formazione e istruzione professionale. Noi abbiamo qualcosa come più di 80.000 ragazzi in formazione nella nostra IFP, abbiamo più di 8.000 ragazzi in formazione nell'alta formazione dell'ITS Academy. Investiamo e crediamo nel sistema e da qui che formiamo le prime competenze dei ragazzi che si approcciano da subito poi al mondo del lavoro attraverso la chiave del successo, ovvero la forte sinergia e anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro con un ponte sinergico e molto solido con le imprese. Da loro, raccogliendo il loro fabbisogno, noi sviluppiamo la nostra offerta formativa. E così poi come tutte le altre misure, formare per assumere, formazione continua, che vedono al centro la persona con un aggiornamento delle competenze continuo per permettergli di continuare ad essere una leva competitiva per le aziende che li accolgono. Prima cosa che dobbiamo fare è difendere le politiche di coesione in Europa. Siamo a metà del periodo di programmazione 2021-2027 ed è proprio questo anno che si comincia a discutere il futuro delle politiche di coesione. Purtroppo in Europa tira un'area di ricentralizzazione delle risorse sulle politiche gestite dagli stati nazionali e non dalle regioni e dai territori, come invece sono le politiche di coesione. E tra queste il Fondo Sociale Europeo, che è uno dei pilastri. Dunque la Lombardia è impegnata per difendere queste risorse, per fare in modo che non si riducano, ma anzi possano continuare a crescere e a fornire il loro contributo, come è avvenuto in quest'ultimo periodo di programmazione. Ricordo che siamo passati da 2 miliardi a 3 miliardi e mezzo in 7 anni per le politiche di coesione. Questo anche per difendere il modello lombardo di formazione e lavoro, che è costruito sul principio di sussidiarietà e che ha fatto nascere tante realtà in questi anni, che hanno fornito un servizio concreto, con politiche attive davvero efficaci e con la possibilità di riqualificare i percorsi professionali di tante persone che hanno usufruito dei nostri strumenti di formazione, finanziati in parte con il Fondo Sociale Europeo.